benvenuti sul mio canale io sono nicola oggi visto che non vado a pescare voglio insegnarvi una tecnica di pesca a bolognese per poter pescare i cefali però volevo iniziare da un po diciamo a parlare di gareggianti ce ne sono di vari modelli come vedete qui adesso prendiamo questo questo qui sarebbe un gareggiante diciamo che si leva si leva l'asta praticamente si fa passare il filo all'interno e poi si rimetta di nuovo l'asta e diciamo poi va regolato in base alla misura che noi vogliamo pescare questo adesso è un 50 grammi quindi ci va un po da 50 grammi una cosa che vi consiglio che io mi trovo particolarmente bene se noi utilizziamo un gareggiante che praticamente è un 50 grammi noi andiamo utilizzare magari cinque grammi in meno così da poter avere diciamo gareggiante che resta fuori un po di più dall'acqua perché se peschiamo lontano riusciamo a vederlo un po meglio io mi trovo bene in questa maniera qui il gareggiante risulta anche più leggero in acqua diciamo essendo che meno piombo si insomma è un consiglio che vi voglio dare poi insomma vedete voi io utilizzo questo metodo qui poi abbiamo quest'altro gareggiante adesso questi qua sono guardati piuttosto grossi vi utilizzo poco anche questo è un 50 grammi a questa forma qui però io solitamente utilizzo il 35 grammi che poi arriviamo vi faccio vedere anche questo è un ottimo gareggiante questo adesso per esempio un 50 grammi si legge poco però 50 grammi comunque ne esistono anche di 30 35 grammi di questo e sono praticamente fatti a freccia e sono davvero ottimi i migliori secondo me per lanciare anche perché io di solito quando andavo a cefali anche l'altro anno che sono andato faccio dei lanci dai 20 ai 35 40 metri quindi se andiamo lontano con questo gareggiante ideale perché quando lanciamo lui praticamente gira fa effetto freccia e anche per la sua forma fa effetto freccia e quindi si riesce a lanciare molto più lontani poi dipende anche dal filo che andremo utilizzare se abbiamo il bobino del filo sottile ci permetterà sicuramente di fare dei lanci più lunghi ecco qui dopo abbiamo 60 grammi questi sono di quelli economici sono fatti a mano se vedete c'è scritto a mano e diciamo il peso c'è la piombatura si è scritta a mano sono di quelli che fanno diciamo delle persone che che conosco ecco e li vendono a poco un euro e mezzo questo qui un gareggiante economico però è di polistirolo tanto tanto morbido se io lo schiaccio vedete che si malforma un po' quindi dipende cosa dobbiamo farci ecco se andiamo a pescare diciamo facciamo una pesca dove ci sono parecchi sassi che magari il gareggiante può andare a sbattere sarebbe meglio questo così almeno con poco ecco diciamo facciamo la giornata di pesca poi magari che una volta se si rompe lo buttiamo via comunque si schiaccia però è difficile che si rompa del tutto ecco poi invece c'è questo modello qui che è sempre 35 grammi che sarebbe praticamente adesso questo un 60 questo 35 sarebbe la stessa forma soltanto che questo è un materiale molto più più resistente questo qui vale costa il doppio ecco e si adesso qui l'ho rovinato perché magari è andato a sbattere lo stesso si sa si comunque anche questo questo un gareggiante che io utilizzo 35 grammi monto il piombo del 30 e sono a posto così mi resta diciamo perché montando il 35 grammi praticamente resta fuori questo pezzo qui che è già abbastanza su questo carriaggiante però se io monto il 30 mi resta fuori un po di più e in mezzo magari un po di onda riesco a vederlo meglio poi abbiamo anche questo questo un 30 grammi qui andrebbe montato un 25 25 magari possiamo mettere un piombino due così arriviamo magari a 28 perché poi se sono tanto tanto corti anche qui sotto se mettiamo poco peso tendono a muoversi tanto quando c'è un po di vento magari invece se vogliamo un gareggiante più piantato in acqua diciamo mettiamo un pochino di peso sempre non affondandolo del tutto perché sennò poi non riusciamo più a vedere mangiate ecco anche questo un ottimo gareggiante poi abbiamo questo 35 ecco questo qui un gareggiante piuttosto largo da onde è sicuramente migliore si muove meno si muove perché è fatto conico diciamo rispetto a questo anche questo un po conico però vedete che diverso qui c'è questo è un 35 questo un 30 vedete la differenza che c'è tra uno e l'altro poi abbiamo un altro 35 anche questo è abbastanza buono se vogliamo possiamo confrontarlo anche con questo così vedete la differenza questo diciamo che sotto è più sul tondo invece questo fa proprio più cono ecco vedete la differenza comunque sono tutti quanti quelli agenti che io utilizzavo anche questo 35 di un'altra forma ancora e niente adesso prendo prendo del filo e così vi faccio una montatura appunto per andare per poter andare a pescare i cefali se volete voglia di andare a pescare cefali ci sono è un consiglio che vi do almeno qui da me nel veneto io sono qui in provincia di venezia chioggia io qui riesco prendere con la tremolina poi magari altre zone non so adesso dove siete voi magari altre zone riuscite a prendere anche con le altre esche qui a chioggia è l'unica l'unica esca che funziona appunto la tremolina che viene pescata qui nella laguna di chioggia nella laguna veneta e tutto qua ecco adesso prendo il filo e vi faccio vedere la montatura allora iniziamo con la montatura adesso questo un filo dello 025 però si potrebbe utilizzare anche più sottile poi dipende insomma anche dalla misura che sono i cefali se sono cefali per i grossi diciamo che 0 25 secondo me è più che sufficiente andiamo infilare il filo da questa parte poi ce lo troviamo che esce dall'altra parte del gareggiante in questa maniera qui da questa parte poi andremo collegarlo alla nostra al nostro travi diciamo principale da canna da pesca se vogliamo possiamo mettere una girella con l'aggancio rapido così magari poi su sul trave della canna possiamo applicare una girella appunto per poter sganciare e cambiare la montatura adesso vi faccio vedere questa maniera qui così magari possiamo prepararci delle montature a casa e magari all'occorrenza basta solo sganciare e mettere e mettere il nuovo la nuova montatura ecco poi qui andiamo a montare uno stopper di questi qui sono degli stopper che hanno praticamente dei tagli qui doveva fatto passare il filo poi diciamo questo qui serve per regolare la nostra misura di pesca la nostra profondità si può passare aspetta che facciamo così io mi trovo abbastanza bene con questo tipo di stopper qui ecco l'abbiamo fissato sulla nostra lenza praticamente quando noi andiamo a lanciare questo stopper lo stopper qui magari diamo ancora un altro giro perché se il filo sottile fa fatica a rimanere agganciato basta dare qualche giro in più da si utilizza questo tipo comunque ce ne sono anche altri tipi vedete che va a sbattere qui e praticamente il galleggiante più su di così non va si ferma qui quindi abbiamo messo la girella che andremo ad agganciarla diciamo al nostro trave della canna si della canna del murinello poi da questa parte qui andiamo infilare il nostro piombo adesso io qui sto utilizzando un piombo un galleggiante da 35 grammi e utilizzo un piombo da 30 appunto per il motivo che vi ho detto prima così mi rimane un po di più fuori galleggiante dall'acqua poi insomma vedete voi come vi trovate meglio io vi do di consigli perché comunque essendo che da tanto che vado a pescare magari può essere utile ecco io mi trovo bene così poi andiamo infilare una perlina salvanodo e la posso portiamo qui sotto il piombo una volta fatto questo adesso io lo faccio diciamo il terminale qui lo faccio corto poi voi lo potete fare un metro metro e mezzo due metri a seconda di come vi trovate meglio ovviamente se mettiamo la diciamo se lo facciamo il terminale se lo facciamo da parte non possiamo avere tutta la lunghezza e magari della canna non possiamo utilizzare tutta la lunghezza della canna perché se invece lo facciamo direttamente dalla canna e non abbiamo questo nodo con quella girella e l'aggancio rapido e quindi possiamo decidere di far andare il galleggiante anche due tre metri dipende dalla misura della nostra canna se peschiamo con canna di quattro metri per esempio possiamo farlo pescare con la profondità di quattro metri però solitamente i cefari quando vado io in questo periodo qui diciamo tra adesso siamo a luglio diciamo che già da giugno fino a settembre e la maggior parte delle volte i cefari si prendono dai 40 ai 70 centimetri di profondità perché sono parchi in superficie quindi non serve pescare profondità non serve avere tanta profondità ecco è solo questo che cambia però insomma è giusto che ve lo dico così se magari dovete dovete pescare profondità più alte lo sapete poi da questa parte andiamo collegare una girella in questa maniera che adesso vi faccio vedere cosa serve questa girella andiamo a mettere una girella qui quando facciamo i nodi però andiamo sempre a bagnare io adesso non lo faccio perché per fare video diciamo non lo faccio però dopo questa montatura la disfo di nuovo me la rifaccio bagnando i nodi perché è sempre meglio bagnare se non il naglio si rovina e una volta fatto questo andiamo a legare il nostro amo allora l'amo che utilizzo io è un amo adesso ve lo dico che numero è è un amo del 2 questo il nostro amo mi raccomando sempre ammi utilizzare sempre ammi buoni vedete che che curvo non è dritto vedete la punta che storta io utilizzo sempre amico la punta storta e con le arete qui dietro gli alpioni qui dietro che servono appunto per non far scendere il verme quando nella fase di lancio e anche per una tenuta magari anche quando quando amiamo il pesce ecco mi raccomando sempre amico la punta storta ben affilati e ammi di qualità perché sennò se non succede che che praticamente i cefali quando prendete cefali di una certa misura il raddrizzano l'amo mi è già capitato più di una volta e quindi non cerchiamo di evitare perdere un pesce sempre è un peccato è già se tante volte si fa fatica a prenderli quindi anche perché diciamo che il cefalo è diverso dell'altro pesce cefalo va più che altro a momenti a dei dei momenti diciamo che mangia e di momenti non però quando mangio il cefalo se ne prendono io la tranne per esempio una ventina quindi non c'è problema però quando non mangia magari si sta lì anche delle ore e non si riesce a prendere niente poi magari cambia la marea e si riesce per si ritorna a prendere qualcosa allora per quanto riguarda il terminale del nostro amo un altro consiglio che vi voglio dare è di non farlo troppo lungo perché poi in fase di lancio si andrà a infiliare nel nostro gareggiante adesso vi faccio vedere quindi tagliamo diciamo un pezzo di 15 cm che è più che sufficiente non preoccupatevi se se l'amo vi resta tanto tanto vicino al piombo la girella non preoccupatevi non succede niente se ci sono che vogliono mangiare loro mangiano senza problemi diciamo che 15 cm ma anche 10 si può fare poi insomma vi regolate un po anche 10 cm vanno bene non è che succeda niente ecco qui allora vedete quando noi andiamo in fase di lancio il piombo resta giù e la mo è più leggero rispetto al piombo quindi quando noi andiamo lanciare può succedere che legge giande che che l'amo scusate faccia di questo vedete che qui non arriva tante volte se lo se voi lo fate lungo adesso lascio del filo così che arriva se lo fate lungo può succedere che vi fa questo e quindi un anno di pesca oppure può succedere che magari lanciando se utilizzate adesso questo qui gareggiante no però se andiamo utilizzare questo adesso vi faccio vedere se andiamo utilizzare questo qui gareggiante morbido quello che vi ho fatto vedere prima praticamente qui l'amo fa fatica a piantarsi invece qui che più morbido si pianta subito vedete come resta cioè e se andiamo utilizzare questo gareggiante qui sarebbe meglio farlo ancora più corto magari 3 4 centimetri più corto diciamo giusto che rimane in questa maniera qui già quando abbiamo questo pezzo qui è più che sufficiente comunque così riusciamo a pescare tranquillamente non c'è problema poi può capitare che magari forse di lanciare si rovina il filo tocca rifare il terminale dell'amo però ci si impiega un attimo io per dirle me li preparo già fatti questi pezzi di determinare qui per l'amo e preparo già gli ami legati poi basta solo che li leggo sulla girella sono a posto allora da questa parte abbiamo la girella quella nostra gancio che se volete farla così la fate così oppure la fate direttamente con la lenza diciamo questo pezzo qui fino a questa girella utilizzate la lenza del mulinello e poi da questa girella fino a lamo mettete un terminale più sottile perché si impobbina avete uno 0 35 0 40 insomma utilizzate un terminale più sottile e così potete utilizzare tutta quanta la lunghezza della canna diciamo io adesso qui ho fatto questa maniera qui praticamente girella con aggancio rapido lo stopper che posso regolarlo più alto più basso a seconda di come mi serve qui adesso su 70 centimetri di profondità in questa maniera perché qui va battuta e il piombo e qui poi c'è il nostro piombo a 30 grammi pallina salva nodo girella doppia è il nostro anno e utilizzate a me sottili diciamo non amici tanto grossi perché più leggero è l'amo nell'acqua più sembra diciamo che non ci sia quando quando non eschiamo il verbo è sempre più naturale possibile e quindi il cefalo riesce a mangiare meglio cerchiamo questo di pescare il più sottile possibile più leggero possibile appunto di cerchiamo di ingannare i pesci ecco tutto qua poi se ci sono mangiano lo stesso però insomma poi con l'esperienza vi vi accorgete anche voi che pescare in altri tipi in altri modi vi trovate meglio ecco e niente tutto qua spero che il video vi sia piaciuto se il video vi è piaciuto commentate lasciate like iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così quando pubblico nuovi video vi arriverà la notifica e vi ringrazio tutti quanti quelli che si sono iscritti sul mio canale quelli che mi seguono mi fa davvero molto piacere e ci vediamo in un nuovo video